Mercedes che finisce dietro Leclerc e con uno dei due, dietro a uno delle due Ferrari, con Hamilton Quinto, Russell Settimo, la Mercedes oggi ha voluto fare qualcosa di diverso, l'ho apprezzato perché insomma chi fa qualcosa di diverso per provare, come dire, a diversificare è sempre da apprezzare, provando con uno dei due piloti, ovvero con Russell, a fare una sola sosta improbabile, delle addirittura tre previste per questo Gran Premio, visto che il circuito, quello di Suzuka, è un circuito ad alto degrado di gomme, non ha premiato un po' per questo motivo, un po' perché, come ho detto prima, in due occasioni Mercedes ha messo una situazione di lotta libera, diciamo così, entrambi i piloti, facendoli perdere del tempo, poi non è che Hamilton e Russell sono due che è molto zerrato, secondo me ha pagato queste scelte in entrambe occasioni, soprattutto nel non far passare subito Hamilton a Russell, che avendo più giri sulla gomma, stava degradando e soprattutto stava rallentando il compagno di squadra inglese, Hamilton, Hamilton che tra l'altro poi nel post gara ha rilasciato dichiarazioni molto polemiche, secondo me, almeno con la vena, perché ha detto a me non interessa il posizionamento, il campionato piloti, bensì quello costruttore e dobbiamo ottimizzare e migliorare la gestione di queste situazioni, ripeto, Mercedes che secondo me ha pagato in negativo questa situazione.